Musica Cari amici, rivolgiamoci alla Bibbia insieme e leggiamo dal Mangelo di Giovanni al capitolo 4. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, l'osciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria, giunse dunque ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo ed era circa l'ora sesta. Una Samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La Samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, Signore tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso con i suoi figli e il suo bestiame. Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga fin qui ad attingere. Gesù le disse, vai a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito e Gesù hai detto bene, non ho marito perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse, Signore vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità, poiché il padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire, quando sarà venuto ci annunzerà ogni cosa. E Gesù le disse, sono io che ti parlo. Da questo brano della scrittura noi possiamo notare come il pregiudizio, l'ignoranza e la negligenza possono essere nemici della fede. Notiamo in questa donna, in questo incontro suo personale con Gesù, un pregiudizio nei confronti di Gesù. Intanto che cos'è il pregiudizio? Il pregiudizio è un'idea sbagliata che ci facciamo di una cosa o di una persona senza esserci accertati direttamente dai fatti. I pregiudizi si suol dire che fanno risparmiare un sacco di tempo, perché consentono di farsi un'opinione senza impiegare ore e giorni magari a conoscere i fatti. E questa donna era una donna che mostrava un pregiudizio nei confronti di Gesù. Intanto perché Gesù le stava parlando, era una donna e non era buon uso che un uomo e una donna parlassero insieme. E lei si meraviglia del fatto che Gesù si ferma a parlare con lei. E poi il fatto che Gesù, un giudeo, parlasse con una samaritana, non c'era molta amicizia tra i giudei e i samaritani. Questa donna quindi aveva dei pregiudizi nei confronti di questo straniero che si era fermato a parlare con lei. E chissà quante persone ancora oggi hanno dei pregiudizi riguardo alla fede, riguardo alla religione, riguardo alla persona di Gesù. Senza conoscerlo veramente già si sono fatti un'idea di lui. Questa donna si dimostrava scostante nei confronti di Cristo perché non aveva completamente fiducia in quella persona sconosciuta. Ma quanto invece risulta importante il suo incontro con quell'uomo quel giorno che è in grado di cambiare la sua vita. Inoltre questa donna era una persona che mostrava ignoranza. E l'ignoranza è mancanza di conoscenza. Infatti Gesù le dice ma se tu conoscessi il dono di Dio, è colui che ti dice dammi da bere. O in altre parole se tu mi conoscessi, se tu avessi conoscenza di me, se tu avessi qualche idea riguardo a quello che io sono e sono venuto a fare. Questa donna aveva qualche idea riguardo alle cose religiosi, un'idea molto vaga per lo più. Non sapeva dove bisognava adorare Dio, abbiamo letto. Non sapeva quale fosse veramente il Cristo che doveva venire. Non mostra una grande sensibilità spirituale. È vagamente orientata verso le cose di Dio ma non sa nulla. E chissà se forse tu caro ascoltatore sei uno di quelli che ha un'idea di Dio, se è fatta una propria idea di Cristo Gesù, ma preso forse dal tuo pregiudizio e dalla tua ignoranza in materia di fede. Hai circoscritto Dio nella tua idea senza aprirti veramente alla fede e a quello che la fede in Dio può fare. Inoltre questa donna era una donna negligente. Mostrava indifferenza, apatia. Non aveva poi tutto questo interesse a conoscere Gesù. O forse perché non gli conveniva. La sua condizione anche sociale non era un granché. Aveva avuto cinque mariti e la persona con cui stava era il sesto uomo che aveva conosciuto nella sua vita. Insomma, una vita non molto corretta. E quindi le conveniva di rimandare il suo incontro con Gesù. Ma scopriamo che Gesù è in grado di vincere il suo pregiudizio. Gesù va incontro alla donna. Lei da sola forse non avrebbe mai osato rivolgersi al figlio di Dio, ma Gesù va incontro a lei. E Gesù ancora oggi viene incontro a noi che siamo dei peccatori. La Bibbia dice che non c'è neanche un giusto sulla terra. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Gesù ha mostrato il suo grande amore venendo incontro a noi. È scritto che Gesù doveva passare per la Samaria. Era nei suoi programmi, così come Gesù ha nei suoi programmi di incontrare te, caro amico, cara amica. Gesù ha nel suo programma di incontrarti personalmente, per mostrarti la sua grandezza e la sua capacità di trasformare la tua vita. Gesù vince il pregiudizio. È lui che si avvicina a questa donna e che rompe le barriere sociali che c'erano a quel tempo. Ma Gesù vince anche l'ignoranza di questa donna. Egli è in grado di dire se tu conoscessi, quasi a dire o cerca di spronare la tua mente, di incoraggiare te stessa a conoscere qualcosa di più di fronte a Dio e nei confronti del Signore. Se tu conoscessi, ed è quello che vorremmo trasmetterti anche noi. Se tu conoscessi il dono di Dio. Gesù è venuto sulla terra per salvare i peccatori. Questo è il suo meraviglioso dono. Gesù ha dato la sua vita per te e per me. E anche tu sei uno di quelli che non può avere comunione con Dio finché non chiedi perdono al Signore per i tuoi peccati. Questo è il dono di Dio. La tua salvezza eterna. Se tu conoscessi veramente e se tu non ti comportassi forse in modo negligente come faceva questa donna, non le conveniva poi in fin dei conti di conoscere il Signore, ma scoprirà qualcosa di meraviglioso. La storia continua dicendo che questa donna fece una scoperta sensazionale. Cominciò a riflettere, ma questo che mi parla non può essere che il Cristo. Tornò nella sua città, parlò con i suoi concittadini. Disse, io ho incontrato colui che sicuramente è il Messia. Lui mi ha cambiato la vita, ha parlato di me, sa tutto di me. Gesù ti conosce personalmente, caro amico. Gesù può venire incontro al tuo bisogno. Gesù che sa tutto di te può trasformarti completamente. Anche tu puoi fare un incontro glorioso in questo giorno. Anche tu puoi ricevere il dono di Dio. Quel dono che non conosci ancora, ma che è pronto ed è dato per te. Devi soltanto riceverlo, devi soltanto prenderlo, devi soltanto farlo tuo. Ed ecco che il Signore opererà. Questa donna vede la sua vita trasformata. La Bibbia ci dice che tornò, parlò con i suoi e tutta la città credette in Gesù. Non più a motivo delle parole di questa donna samaritana, ma a motivo del fatto che anche loro, avendo ascoltato la parola di Gesù, scoprirono di avere fede nel loro cuore. E quella parola produsse miracoli. Quella città fu messa sotto sopra, chiesero a Gesù di trattenersi da loro ed egli si trattenne lì ancora qualche giorno. La parola di Dio aveva trasformato quella città. Gesù, la sua presenza aveva trasformato quelle vite. E Gesù e la sua presenza possono trasformare anche la tua vita oggi. Apriti al Signore Gesù, apriti con tutto il tuo cuore, realizzarai la grandezza dell'opera di Dio nella tua vita. Scoprirai quanto è grande il dono di Dio anche per te. Gesù è venuto incontro a noi peccatori affinché avessimo la vita e avessimo la vita eterna. E la Bibbia ci dice che chiunque crede in Lui non perirà, ma avrà la vita eterna. Il nostro consiglio, caro amico, cara amica, è di credere in Cristo Gesù e di aprire gli occhi verso una realtà spirituale che forse fino ad oggi ti è stata sconosciuta. Oh, apri questo meraviglioso libro, leggi la parola di Dio, scopri queste parole meravigliose che sono indirizzate proprio a te e realizzerai il dono di Dio che è in Cristo Gesù. La vita esuberante oggi, la vita eterna domani. Dio non ti deluderà, Egli sarà sempre al tuo fianco e realizzerai qualcosa di grande e di meraviglioso che ti trasformerà. Dio ti benedica, la pace del Signore sia con te. Dio ti benedica, la pace del Signore sia con te. Dio ti benedica, la pace del Signore sia con te.